Arrivano le prime gift box, concepite esclusivamente per i Campi Flegrei, dove turismo enogastronomico e archeologia subacquea sono in primo piano. Al Cala Morisca di Bacoli la presentazione durante il Christmas Party del gruppo alberghiero Laringe, che ha anche illustrato i dati di federalberghi Campi Flegrei. Il mercato delle gift box è un mercato in continua espansione, attualmente appannaggio dei grandi gruppi internazionali. Noi abbiamo voluto fare una gift box tematica, perché fosse anche allo stesso tempo uno strumento di promozione territoriale. Quindi nasce come una gift box che promuove il territorio, oltre che chiaramente alle nostre strutture, e quindi si pone un po' in antitesi con le altre che sono sul mercato e che in realtà sono gift box tematiche. Ecco, questa è un'idea, penso, nuova e innovativa, che possa essere un importante strumento promozionale per il territorio. Reputo che sia sicuramente un grosso passo in avanti e mi auguro che a seguito di questa iniziativa tante altre dello stesso genere possano incrementare sempre di più l'attrazione che questo territorio fantastico riesce ad esercitare.